Adesso invece il nostro primo spazio oggi ci porta a parlare di un tema che ci interessa moltissimo, dell'agricoltura. Nel nostro paese ci sono oltre un milione e mezzo di aziende agricole grandi e piccole, un patrimonio di tradizioni ma anche di innovazione allo stesso tempo. Pensate che è in corso il censimento generale dell'agricoltura, che sarà l'ultimo censimento a cadenza generale organizzato dall'ISTAT e noi ne parliamo insieme a Cecilia Manzi. Benvenuta, Geo, ricercatrice della Direzione Centrale per le Statistiche Territoriali e Ambientali dell'ISTAT. Allora, è molto importante questo censimento e perché è importante che le aziende agricole partecipino e adesso vedremo anche come e in che modalità essi raccontino. È importante perché le informazioni che stiamo raccogliendo ci permetteranno di tracciare una mappa dettagliatissima dell'agricoltura italiana fino a livello comunale e questo sarà di aiuto per disegnare meglio le politiche agricole. Inoltre, non solo a livello nazionale, ma consentirà anche confronti a livello europeo perché il censimento non è un'operazione solo italiana, ma riguarda anche gli altri stati membri e l'Unione Europea con i dati raccolti potrà valutare l'impatto delle politiche agricole passate e meglio mirare quelle future. Quelle future. Allora, abbiamo intanto uno spot che vorrei mandare subito realizzato dall'ISTAT per spiegare in maniera sintetica le ragioni e soprattutto che cos'è questo censimento. Prego Michelangelo Pepe, il nostro regista, di mandarlo. Ci sono domande a cui sai dare sempre una risposta. Hai risposto con coraggio nei momenti difficili. Alcune risposte possono cambiarti la vita o cambiare la vita degli altri. E sempre per ogni risposta che dai, ce n'è una che meriti. Oggi ISTAT ti chiede di rispondere al settimo censimento generale dell'agricoltura per conoscere meglio le tue esigenze e quelle del mondo agricolo. Se ti facciamo domande è perché meriti risposte. Censimento generale dell'agricoltura. L'Italia che fa crescere l'Italia. Eccoci qua. Allora, con Cecilia Manzi, ricercatrice della direzione centrale dell'ISTAT, vogliamo capire a cosa servono le informazioni che vengono raccolte nel censimento. Servono per conoscere l'agricoltura del nostro paese e quindi per poter aiutare anche gli agricoltori, visto che i sostegni in agricoltura sappiamo che sono fondamentali. Sempre fondamentali, certo. E come si partecipa? È già da gennaio che ha aperto il censimento, che sta andando avanti, state raccogliendo le adesioni. Si fa solo a livello digitale, vero online? Sì, niente carta quest'anno. Il questionario è solo digitale. Si può compilare in completa autonomia, accedendo con le credenziali che abbiamo inviato al nostro sito, oppure si può contattare il numero verde gratuito 800 961 985 per fare un'intervista con un operatore telefonico. Ancora ci si può rivolgere alla rete dei centri di assistenza agricola che partecipano al censimento. Una cosa importante che voglio ricordare è che le unità coinvolte non sono solo le aziende agricole orientate al mercato, ma anche le numerosissime piccole realtà familiari che coltivano anche piccoli appezzamenti di terreno o allevano animali per il proprio autoconsumo. Ecco, quindi anche l'autoproduzione, anche se non vendono sul mercato. Anche in questa edizione, che è appunto l'ultima che riguarda tutte le unità, sono coinvolte proprio tutte, anche queste. Allora, un primo censimento di Istat sull'agricoltura risale dal 61, no? Cerchiamo di vedere insieme come è cambiata l'agricoltura negli anni. Abbiamo una grafica che ci racconta intanto di quante erano le aziende agricole allora, vero? Allora, l'agricoltura è cambiata moltissimo e probabilmente il segnale più forte è proprio la drastica riduzione del numero di aziende agricole. Come vediamo, negli ultimi 30 anni il numero di queste unità si è dimezzato. È passato quindi da oltre 3 milioni a 1 milione e 600 mila. È aumentata la dimensione media di queste aziende che però rimane molto al di sotto ancora di quella dell'Unione Europea. E questo perché l'agricoltura italiana è proprio caratterizzata da un elevatissimo numero di piccole aziende. Nel 2010 una su quattro non arrivava a un ettaro di sau. Quindi noi abbiamo molto più piccole aziende che le grandi. Tante piccole aziende. Perché in realtà abbiamo un territorio talmente variegato, una grande ricchezza di biodiversità. In fondo è anche la nostra forza per certi versi, no? Il fatto di essere così specifici nell'agricoltura e così preziosi. Senti, è vero che le donne hanno preso un ruolo importante nell'agricoltura oggi? Sì, è molto vero. Già dieci anni fa il censimento 2010 aveva fotografato una situazione in cui il 30% dei capi aziende era donna. Questo dato si è confermato negli anni. E dati recenti ci evidenziano come l'Italia sia in pole position rispetto ai paesi dell'Unione Europea, dove la media è del 27%. Tra l'altro spesso la figura femminile si associa anche a particolari tipologie di aziende agricole. Ad esempio, se pensiamo agli agriturismi, ben il 47% degli agriturismi del nostro mezzogiorno è gestito da donne. Assolutamente. Poi noi a Geo abbiamo parlato spesso del ritorno dei giovani all'agricoltura. È vero che si è dimezzato negli ultimi 30 anni, se vuoi, il comparto agricolo, però c'è un ritorno di tanti giovani a questa attività. Su questo dobbiamo aspettare i dati del censimento, perché delle stime recenti ci mostrano che l'Italia è ancora un pochino dietro rispetto ai paesi dell'Unione Europea. Ecco, lo vediamo da questa grafica. Però aspettiamo i dati del censimento per vedere se questa tendenza è confermata. Ecco, cosa capiremo anche con il censimento? Anche le nuove tecnologie che vengono impiegate in agricoltura, cercate di fare proprio una fotografia dei vari sistemi agricoli che si trovano nel nostro paese? Sì, perché quest'anno, oltre ai temi tradizionali, abbiamo introdotto nel questionario dei quesiti specifici sul livello di informatizzazione, di innovazione tecnologica, sull'utilizzo, ad esempio, di sistemi di agricoltura di precisione. Proprio perché questo è un argomento che sta veramente prendendo piede in Italia, nell'agricoltura italiana. E questa sensazione è più che confermata da alcuni dati di un'indagine molto recente sulle aziende zootecniche che ci dice che bene il 39% di questa tipologia di aziende ha una gestione informatizzata degli allevamenti. Dieci anni fa era solo il 6,6% che l'aveva. Poi ci sarà uno spazio anche per capire il ruolo del biologico che è enorme nel nostro paese. Siamo tra i leader europei. Certamente, perché l'agricoltura biologica negli ultimi dieci anni ha raddoppiato le superfici e queste superfici biologiche adesso, diciamo, più o meno pesano il 16% sulla superficie agricola che è un ottimo risultato, il doppio della media europea. Allora, è vero che partecipare al censamento significherà anche partecipare alla prima foresta social dell'Istat? cosa vuol dire? L'Istat ha aderito a un progetto di forestazione del parco delle chiese rupestri vicino Matera e ogni 10.000 questionari compilati viene piantato un albero di specie autoctona in questa zona meravigliosa e in questo modo speriamo di contribuire con una piccola foresta social proprio perché è il risultato del contributo di coloro che hanno partecipato al censimento dell'Istat. Grazie allora, grazie Cecilia Manzi dell'Istat, Direzione Centrale per le Statistiche Territoriali e Ambientali. Grazie. E adesso andiamo a fare un viaggio in Lombardia. a direzione.